Bene, io immagino che, insomma, sono dei ragazzi che magari gli piace il cazzo, però a me non mi piace, però a tutti quelli omosessuali gli voglio mandare un bel bacione enorme virtuale a tutti, un bel bacio enorme a tutti Basta, basta che topo, che credo, che credo non pure